Sono Davide Treceghetti, sono molto contento di essere qui insieme a ragazzi, soprattutto per questa Juventus Academy, dove i bambini imparano comunque i valori della Juventus, però soprattutto si divertono moltissimo e questa è la cosa più importante, insieme ai suoi compagni, amici che sono diventati, io in più tutti i genitori che sono presenti. Dopo per quello che riguarda il Verdura Resort, veramente questo è il mio secondo anno, è stato un posto fantastico, mi hanno accolto in una maniera incredibile, mi diverto moltissimo, sono molto legato ormai a questo posto e spero di tornare prestissimo e veramente ringraziare a tutti per come mi hanno accolto. Un abbraccio a tutti! Grazie! Grazie!